Signora Presidente, gentile Onorevole Saltamartini, trovo che l'esperienza politica ci consegni tante gustose occasioni come quella di sentire una persona come lei, Onorevole Saltamartini, cui come stava il mio rispetto, che viene da una precisa storia, passare da quella storia al sostegno della politica estera russa. Sono esperienze che fanno piacere perché segnano come il mondo stia cambiando. Anche la sua belata critica iniziale sinceramente mi fa sorridere, anche perché io qui rappresento un gruppo politico, non rappresento me stessa, quindi magari portare un po' di rispetto al mio gruppo politico forse sarebbe stato meglio. E in tal senso le voglio ricordare che la mia storia e la mia identità politica fanno sì che oggi sia qui proprio in opposizione, avendo scelto di andare in opposizione a lei e al suo metodo.